...e sempre il governo federale chiede al Parlamento crediti per un totale di quasi 364 milioni e mezzo di strati per alcune costruzioni sportive che non... Da queste un credito che sta circa 99 milioni per la nuova vicina coperta al centro nazionale sportivo di Temero, i lavori di costruzione saranno eseguiti a TAPE e non saranno alle attuali...